Ecco alcune cose che devi sapere prima di partire. Una volta assegnato il tuo volo che potrai consultare nella sezione Il tuo volo di My Study Tours, troverai anche tutti i dettagli relativi al punto di ritrovo. Orari e numero di emergenza a cui fare riferimento in caso di necessità il giorno della partenza. Tendenzialmente negli aeroporti di Roma e Milano, oltre al proprio capogruppo, ad accogliere i ragazzi sarà presente un assistente aeroportuale Study Tours. In tutti gli altri aeroporti sarà invece il capogruppo a svolgere le operazioni di accoglienza, salvo diverse indicazioni. Nel punto di ritrovo stabilito, l'assistente aeroportuale ed il capogruppo consegneranno ad ogni passeggero il proprio biglietto aereo e le etichette bagaglio. Attenzione! L'eventuale perdita del volo comporta l'emissione di un nuovo documento di viaggio correlativo a debito. Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono ispatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le vege. Ricordiamo che per garantire la partenza è necessaria una dichiarazione di accompagno. Tale dichiarazione dovrà essere portata con sé dallo studente in aeroporto e presentata contestualmente al documento in corso di validità. È possibile che alcune questure richiedano anche la copia del documento di identità del capogruppo preposto. In tal caso, Study Tours provvederà a fornire la documentazione necessaria attraverso la sezione Conosci il tuo group leader di My Study Tours. Ricordiamo che Study Tours ed i capigruppo non sono in alcun modo responsabili per eventuali problemi di espatrio che dovessero verificarsi. Registrazione bagaglio, check-in. Nel caso in cui il viaggio preveda più tratte o coincidenze, occorre controllare che lo scontrino bagaglio, rilasciato quale ricevuta, riporti la destinazione finale. La carta d'imbarco va conservata con cura poiché l'eventuale smarrimento potrebbe pregiudicare il diritto a partire. All'annuncio dell'imbarco del volo, il passeggero deve presentarsi all'uscita indicata negli appositi tabelloni con il documento valido per l'espatrio e la carta d'imbarco a portata di mano. Medicinali a bordo Chi ha necessità di avere medicinali a portata di mano deve limitare le medicine a ciò che è realmente indispensabile per il periodo del viaggio aereo. La seconda indicazione è quella di portare i medicinali all'interno del bagaglio a mano. È consigliabile che le medicine vengano trasportate nelle loro confezioni originali, affinché siano riconoscibili. Le medicine devono essere pronte per l'ispezione di sicurezza se richieste in aeroporto. Durante il controllo di sicurezza vi potrà essere richiesta la prova della reale necessità di imbarcare, medicinali e medicine salvavita. A tal fine, non dimenticate di portare con voi il certificato medico, redatto sia in italiano che in inglese. Protesi metalliche a bordo Le autorità aeroportuali suggeriscono di non dimenticare di portare con sé un certificato medico da esibire al check-in e al controllo di sicurezza. Non occorrono radiografie, basta richiedere al proprio medico rilascio gratuito di un certificato che indichi la posizione e la tipologia della protesi metallica. Il certificato, se richiesto, dovrà essere esibito al momento dell'imbarco passeggeri a bordo dell'aereo. Ricordiamo che il certificato dovrà essere redatto in italiano ed inglese. Attrezzature mediche Se un passeggero desidera portare a bordo attrezzature mediche speciali, come siringhe o macchine portatili per la dialisi, Si consiglia di farne opportuna segnalazione all'atto della prenotazione in modo da stabilire se la specifica richiesta possa essere approvata dalla compagnia aerea e quindi garantire L'autorizzazione al trasporto Si ricorda di fare richiesta al proprio medico del certificato che attesti la necessità di trasporto di tali attrezzature, redatto in italiano ed inglese. Smarrimento bagaglio o danneggiamento La mancata riconsegna deve essere immediatamente segnalata al capogruppo che provvede a ricarsi all'ufficio Lost and Found presentando lo scontrino ricevuto al check-in. Compilato l'apposito modulo, PR, rapporto di irregolarità bagaglio, se stipulata un'assicurazione facoltativa, occorre inviarne copia alla stessa entro il lasso di tempo specificato nella polizza. Ogni eventuale richiesta di rimborso deve essere inoltrata direttamente alla compagnia aerea. Prima della partenza, è consigliabile stilare un elenco con una breve descrizione del contenuto della valigia per agevolare le procedure di denuncia. In caso di smarrimento bagaglio, i passeggeri dovranno conservare eventuali ricevute fiscali che attestino l'acquisto di beni di prima necessità. All'arrivo, ritirati i bagagli ed espletate le formalità, il rappresentante Study Tours accompagna i gruppi al pullman riservato per il loro successivo trasferimento alla destinazione. Ricordiamo di accertarsi che il proprio bagaglio sia stato imbarcato sul pullman. Dalla sezione Conosci il tuo gruppo leader di My Study Tours una volta assegnato, avrai modo di visualizzare i recapiti telefonici, visualizzare la sua fotografia e scaricare la copia del suo documento di identità per iniziare a conoscerlo e rendere la tua esperienza ancora più piacevole. L'assistenza dei gruppi Study Tours è affidata al capogruppo che è responsabile degli studenti, li assiste 24 ore su 24 durante il viaggio, il soggiorno e nelle attività del tempo libero, controlla che lo studente goda di buona salute, segua regolarmente le lezioni e sia soddisfatto, parla con i docenti. Verifica il progress report di ognuno, relaziona i genitori, se richiesto. Va precisato che durante lo shopping, le visite ai musei o gallerie d'arte e per quel lasso di tempo necessario agli acquisti o a far completare le visite culturali in piena libertà, anche i minorenni possono rimanere senza la diretta assistenza del proprio accompagnatore per brevi periodi. Study Tours e i suoi capigruppo, limitatamente a quanto indicato nelle clausole integrative alle condizioni di viaggio, vengono manlevati da ogni responsabilità.